allora la ritmica è un pochino complessa complicata ci vuole un pochino ad impararla però allora essenzialmente si simula il basso con una percussione o con la percussione della prima corda come farò io in questo modo primo accordo quindi poi accordo di mi maggiore però bisogna farlo non arpeggiando ma suonando la prima la terza la quinta e la quinta in questo modo quindi un pochino 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 un pochino